Tornare a dare la voce a 22 è stata una festa, mi sono molto affezionata a questo personaggio quindi credo che non lo lascerò mai. Siete state elette come membri di un'esclusiva organizzazione segreta il cui scopo è impedire alle anime di finire in quel brutto posto chiamato terra. 22 prima dell'arrivo di Joe non trova una motivazione per andare sulla terra, anzi lavora contro le animi che vogliono andare sulla terra e che trovano la cosiddetta scintilla. Dopo l'incontro con Joe naturalmente come vediamo poi in Soul, lei trova una forte motivazione e trova sostanzialmente il senso della vita, la gioia di vivere. La cosa che ha amato di più di Soul è quello che ti lascia, un senso profondo di gioia nella vita, di gioia di vivere. Direi che dell'antemondo il posto che mi piace di più è il salone del tutto perché lì scegli, vedi, c'è tutto e tutto quanto. Anche i padiglioni della personalità sono molto interessanti. 22 è un'anima molto ribelle, mi piace per questo, mi è simpatica per questo. Non so se sono simile a 22, un po' ribelle lo sono sempre stata ma insomma 22 è roba forte. Siete insulse pagine vuote. Siamo insulse pagine vuote. Se fossi un'anima pronta ad andare sulla terra non so quale luogo sceglierei. Probabilmente quello che conosco meglio, quello da cui provengo. Ricomincerei dallo stesso posto. E la nostra inarrestabile banda avrà un nome epico? Sì! E come? I commenti che mi hanno emozionata di più sono arrivati da mia figlia. Soul è un film che fa breccia nel cuore degli adulti perché ha un senso profondo e molto toccante. Vedere tutto questo entusiasmo in una bambina di otto anni mi ha fatto veramente un grandissimo piacere. Senza uno scopo! Senza uno scopo! Almeno fino ad oggi! Mentre suona Joe scivola in quella che viene chiamata la bolla. Sicuramente c'è un momento in cui un artista si isola e si sente protetto. È una questione di concentrazione, di vivere quel momento lì, che è finzione ma è anche realtà. È una protezione, è un luogo sicuro, una bolla. Congratulazioni! Voi cinque avrete il privilegio di restare... Voi cinque avrete il privilegio di restare... No! Aspettate! Ora basta ripetere! Insomma! Joe è il mentore di 22. L'aiuta a trovare la sua scintilla. Forse tutti i genitori, come capita a noi con nostra figlia Laura, tutti vorrebbero essere dei mentori perfetti per i propri figli e aiutarli e guidarli a trovare la propria scintilla. Secondo me non c'è molto da fare nel senso che, come capita anche in in questa storia bellissima che è Soul, la scintilla bisogna trovarla da soli.